Ehi, bentornati. Da due giorni circola un articolo di Repubblica che cita un sondaggio commissionato proprio dal quotidiano a Demos, l'organizzazione che si occupa di questo tipo di indagini. Il sondaggio in questione è stato titolato da Repubblica Un Italiano su quattro di fida dei media sugli orrori dei russi. Aperte in virgolette, propaganda di Kiev. Se vi aspettate che vi stia per dire che non è esattamente così e che il titolo è ingannevole... no, no, non è quel tipo di puntata purtroppo. Il sondaggio è stato eseguito su una base di 1012 casi, immagino rappresentativi della popolazione italiana, ed è estremamente interessante. Guardate qui. Quasi il 70% degli italiani si ritiene infatti abbastanza informato sugli avvenimenti bellici, ma solo il 59% di questi dà un giudizio almeno sufficiente all'informazione fatta sulla tv italiana. E solo il 53% la sufficienza la dà ai giornali italiani, cosa che quindi mi porta a pensare che parte degli italiani, quelli che non si sentono abbastanza informati magari, cioè il 30% circa, non guardi e non legga niente, e un'altra parte si informi sui media internazionali, che in genere è una buona idea, anche se per quanto riguarda questo conflitto non possiamo di certo dire che non ci siano bravi giornalisti italiani sul campo. Anzi. Primo dato curioso, solo il 39% degli intervistati dà però un giudizio sufficiente ai talk show, che come sapete attraversano una fase di crisi. In teoria, in realtà non è che attraversino proprio una fase di crisi, parliamo un attimo di questa cosa. È sostanzialmente inutile che io faccia appelli a non guardare i talk show, che l'avevamo detto per loro natura cercano lo scontro, non l'approfondimento. Dico che è inutile, perché la maggior parte di voi non li guarda. Sta cosa di sedersi la sera e guardarsi la 7 o ai 3 appartiene per la maggior parte ad altre generazioni, che probabilmente mai accetterebbero che io, tizio che non sanno chi è, perché raramente o mai mi avranno visto in televisione, possa arrivare a consigliare loro di non stare ad ascoltare i veri fenomeni da salotto televisivo che sanno di essere chiamati in tv in virtù della loro capacità di essere controversi nei loro interventi di 120 secondi. Il problema è che poi questi interventi finiscono nel web, vengono ricondivisi. Ti trovi Orsini che parla dei bambini ucraini e si inventa di madri assediati a Mariupol che non hanno di meglio da fare che scrivergli delle mail. Non si sa con che linea, non si sa con che corrente che è stata tagliata due mesi fa. Per cui certo, il problema è dei talk show e di chi li guarda, perché questi programmi tutti li criticano e poi fanno il pieno di share sempre, ma è anche l'effetto che il web ha di ingigantire questi fenomeni a portarci per la situazione attuale, di cui evidentemente molti italiani si accorgono. Ma non sanno che farci. Questo problema conflittuale con la stampa emerge anche in altre parti del sondaggio comunque, perché ora arriviamo proprio lì, all'italiano su 4 che ritiene che le notizie e i crimini dell'esercito russo siano una montatura del governo ucraino. È tanto uno su quattro, è altro che ben informati, è un disastro, ma attenzione c'è una cosa di cui si è parlato meno nei dibattiti social che si sono scatenati attorno a questa roba, che è la ripartizione per partito. Mentre infatti tra gli elettori del PD il 29% pensa che l'informazione sia un po' pilotata, ma solo uno su otto pensa che sia tutta una montatura del governo ucraino, la quota sale a uno su quattro tra gli elettori di Forza Italia e si supera quella soglia avvicinandosi pericolosamente al 30% nel caso di Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia, i cui elettorati sembrano peraltro molto convinti per la maggior parte di quella cosa dell'informazione pilotata. Cosa che ovviamente riflette il rapporto conflittuale dei leader dei rispettivi partiti con la stampa, addirittura superiore ai rimasti elettori di Berlusconi, no? Che di questa cosa ne aveva un po' fatto la sua cifra. E attenzione, significa questo anche l'emergere di quei famosi fenomeni per cui sono convinto che tutti mentano, tranne i media che seguo io, con il rischio che poi uno va a sentirsi complottari, la gente che parla delle scie chimiche, eccetera. E infatti non è un caso che poi tutta la platea del non è vero niente, tutta la montatura, spesso coincida con i no vax e i no passe, i no quello e i no quell'altro. Sono mondi che si sovrappongono, cioè un'architettura comune, diciamo, e in questo i giornali e i partiti, lo sappiamo, hanno entrambi una responsabilità che però poi raramente si prendono, anzi quasi mai. Il risultato di tutto questo è quindi, ne parlo oggi il Guardian, che è pezzi e siti che cercano di inquadrare il massacro di Buccia come un falso, ad esempio, come organizzato, ricevano tre volte tanto le condivisioni social che ricevono altre informazioni vere in merito a cosa stia veramente accadendo in Ucraina. E poi si fa ovviamente un'enorme fatica per provare a salvare il salvabile, perché poi da quel buco nero di disinformazione nel quale uno è andato a infilarsi è difficile tirarci fuori la gente, e lo saprete, perché di nuovo parliamo di un italiano su quattro. È tantissimo, spesso è proprio una battaglia persa. Ma ci si prova. Bentornati su Breaking Italy. Ora cambiamo argomento e ci spostiamo sulle notizie internazionali, quindi preparatevi perché dobbiamo fare un viaggione. Ma prima di lasciare definitivamente il nostro paese, ringraziamo un attimo lo sponsor di questa puntata, cioè le ragazze e i ragazzi di Satispay. Quindi domanda, domanda. L'avete provato Satispay? Avete usufruito di quei famosi 5 euro? Perché guardate, se non li usate per fare colazione e farvi una foto da mandarmi su Instagram, mi arrabbio. Guardate che schifezze metto io su Instagram. Questa è la mia ultima storia da boomer, che roba è? No. Datemi una mano, per favore. Fatevi le foto mentre fate colazione. Allora, Cosè Satispay è un servizio di pagamento alternativo che funziona fuori dai circuiti bancari internazionali, si gestisce completamente dall'app e ci puoi fare ovviamente di tutto, dal mandare soldi a parenti e amici, al pagare bollette pago pa, il bollo dell'auto, il bollo della moto, le ricariche telefoniche. Ovviamente uno dei suoi punti di forza è che è adottato da moltissimi negozi che sfruttano il fatto che le transazioni sotto una certa soglia siano totalmente senza commissioni. Quindi se andate al bar e pagate 4 euro, all'esercente entrano 4 euro, cosa che lo rende molto conveniente. Fate conto che io credo così tanto nel servizio che abbiamo di recente abilitato i pagamenti tramite Satispay anche sul sito del brand di abbigliamento che possiedo, EIA. Quindi, tra i metodi di pagamento, boom! Ecco qui, anche Satispay. Ora, non starò a farvi la testa d'acqua come al solito parlando del perché, io ritengo importante e continuare a fare pressione sull'adozione di metodi di pagamento elettronici, che ok, nel senso sono comodi e tracciabili ed è tutto ordinato, ma vabbè non, il sistema di Satispay è poi particolarmente immediato perché funziona utilizzando la fotocamera del telefono per inquadrare dei codici, magari l'avete anche visti e sposti nelle casse di qualche negozio. Quindi, al solito, vi invito a provarlo. Codice Breaking Italy, link in descrizione, e riceverete 5 euro che potete poi utilizzare a piacimento. Ah, e non ho detto che potete usarlo anche per donare a cause benefiche, tramite Satispay gli utenti hanno ad esempio già donato a Save the Children Ucraina quasi un milione di euro, un milione, quindi bravi tutti. E taggate, mi su Instagram quando usate i 5 euro di bonus, fate le foto, scrivetemi delle cose belle, ne ho bisogno, anche false, anche false, false. Ok, ora affrontiamo un argomentone su cui ci sono stati costanti aggiornamenti durante gli anni, ma che a dire il vero non trattiamo da parecchio qui su Breaking Italy, essenzialmente perché non c'è ancora stato un vero e proprio aggiornamento della questione, e uso il passato ovviamente per chi dice stato ed è grosso. Quindi, pronti prontini, parliamo dell'attivista e informatico Julian Assange, fondatore del noto sito Wikileaks. Quindi, cos'è successo? Dunque, come sapete la storia è parecchio lunga e complessa, e soprattutto va avanti da più di 10 anni, dal 2010. Quindi mettiamo innanzitutto sul tavolo la notizia, ovvero che una corte britannica ha formalmente autorizzato l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, dove si troverebbe quindi, o forse si troverà ad affrontare un processo con l'accusa di spionaggio. Quindi, estradizione, ma ovviamente, visto che sono passati così tanti anni, è il caso di cercare di far chiarezza sul perché questa notizia sia così importante. Quindi, chi è Julian Assange e soprattutto perché ha fatto arrabbiare Washington. L'attivista, giornalista e programmatore australiano ha fondato nel 2006 l'anno profit divulgativa Wikileaks, che in breve riceve in modo anonimo dei documenti secretati da apparati statali, militari, industriali o banche, per poi diffonderli e mettere in luce comportamenti non etici di governi e di aziende. Ora, il sito si è guadagnato una certa fama a livello globale dal 2010, tenete a mente questa data, 2010, per via della diffusione di alcuni documenti molto incriminanti nei confronti degli Stati Uniti, diciamo, che ovviamente non l'hanno presa benissimo. Quindi, cosa c'era in quei documenti? Cosa c'è? Cosa c'era? Fa ancora ridere questa meme? Non fa ridere. Cosa c'era in quei documenti? Un sacco di roba. Tra loro ci ricordiamo sicuramente del video titolato Collateral Murder, che è quello che essenzialmente mostra i soldati statunitensi uccidere da un elicottero 18 civili in Iraq, civili tra cui peraltro c'erano due giornalisti dell'agenzia Reuters. Altri dati poi vertono sull'operato dell'esercito statunitense nella guerra in Iraq e in Afghanistan, riportano un numero di vittime civili estremamente alto, e altri ancora riguardano le ormai famose detenzioni completamente arbitrarie di persone afghane e pakistane nel campo di prigionia di Guantanamo, oppure il celebre Cable Gate, che ha diffuso una gigantesca mole di informazioni sotto forma di comunicazioni tra corpi diplomatici statunitensi. Insomma, parecchia roba che è stata poi ripresa dalla stampa internazionale ed è costata ad alcuni anni di detenzioni anche in isolamento, come all'ex soldatessa Chelsea Manning, che aveva trafugato quei documenti e li aveva poi dati a Wikileaks. Bene, quindi non è difficilissimo capire come mai venga aperta un'indagine penale proprio nei confronti del sito, ma non è tutto. Nello stesso anno, infatti, Assange era stato raggiunto da altre accuse in Svezia, accuse che non c'entrano niente con i leaks, ma riguardano violenze sessuali, e da qui Stoccolma aveva iniziato a chiedere insistentemente l'estradizione dell'attivista dal Regno Unito, paese nel quale si trovava in quel momento, alla Svezia, appunto, che voleva processarlo per queste accuse. Ora, non abbiamo tempo di entrare poi nel dettaglio di tutto quello che è accaduto, perché per un paio d'anni ci sono state tutta una serie di complicazioni. Assange si è consegnato alle autorità britanniche per le accuse mosse dalla Svezia, e se all'inizio Londra gli ha concesso la libertà di cauzione, ha poi successivamente confermato la volontà di estradarlo. E a quel punto Assange, che riteneva le accuse pretestuose è soltanto un modo per essere messo a tacere ed essere spostato negli Stati Uniti, ha quindi deciso di cercare asilo politico nell'ambasciata dell'Equador a Londra, che lo aveva effettivamente accolto. E questo nel 2012. Fate conto, siamo a dieci anni da adesso. Come dicevamo, ed è un'opinione molto condivisa, perlomeno lo era ai tempi, da gran parte dell'opinione pubblica, l'accusa di violenza era considerata un pretesto per arrestarlo ed estradarlo negli Stati Uniti, poi che in tutto ciò avevano l'interesse di processarlo con altre accuse, cioè quelle di spionaggio. Ragioni che peraltro sono le stesse che hanno mosso il governo dell'Equador a concedere ad Assange asilo nell'ambasciata londinese. Anche se, come sempre in questi casi, alcuni hanno poi parlato di una mossa politicamente motivata, dal loro presidente Correa, volta al ripulirsi dalle accuse di repressione contro la libertà di parola, dando asilo alla figura che in quel momento era considerata il paladino della libertà di parola. E la cosa interessante è che, benché le accuse svedesi fossero poi decadute nel 2017, Assange aveva comunque deciso di rimanere dentro la struttura diplomatica, sostanzialmente sempre per la stessa ragione, perché temeva l'estradizione negli Stati Uniti. Con un senso, perché nel frattempo gli Stati Uniti hanno continuato a dover fare i conti con le azioni di Wikileaks. Non è mica finita nel 2010, è continuata per molto tempo. Vi ricorderete infatti che nel 2016, ad esempio, fu Wikileaks la protagonista della pubblicazione di alcune mail compromettenti su Hillary Clinton, principalmente relative ai suoi tentativi di sopprimere la corsa di Bernie Sanders tramite la propria influenza nel partito, diciamo. Mail che poi influenzarono le elezioni, quelle dove Trump uscì poi vincitore. E poi, l'anno dopo, fu il turno della CIA e del famoso leak chiamato Volt 7, in cui furono pubblicati documenti che dettagliavano modalità e tecniche che l'agenzia americana utilizzava per sfruttare vulnerabilità informatiche, entrare nei device della gente, spiarla, insomma, in generale hackerare cose, per dirla in maniera professionale. Quindi, per quanto l'entusiasmo dell'opinione pubblica nei confronti di Assange si fosse un po' raffreddato, sostanzialmente perché in tanti gli attribuivano la responsabilità di aver fatto vincere le elezioni a Trump, le attenzioni di Washington non si sono invece mai placate. Anzi, si sono intensificate. Il problema dell'affidarsi alla politica, però, sapete qual è? Che i governi cambiano, cambia tutto. E infatti, quando la presidenza dell'Equador passò da Correa a Moreno, cambiò anche la musica per Assange, che nel 2019, ben sette anni dopo rispetto al suo ingresso nell'ambasciata, fu prelevato dalla stessa, che aveva nel frattempo revocato lo stato di rifugiato politico, ed alliando dritto in prigione, proprio su richiesta delle autorità degli Stati Uniti, che lo accusavano di aver collaborato con Chelsea Manning, che nel frattempo stava passando una marea di guai. Bene, e qui torniamo al presente, e alla notizia che abbiamo citato all'inizio. Dopo che negli scorsi anni c'è stata una sorta di braccio di ferro, tra le autorità di Washington e di Londra, con le prime che richiedevano questa benedetta estradizione, e le seconde preoccupate invece per la salute mentale dell'uomo, che apparentemente soffre di depressione e ha tendenze suicide, alla fine, con una sentenza dello scorso dicembre, la Corte aveva stabilito di aver ricevuto sufficienti rassicurazioni sul fatto che lo spostamento di Assange, in territorio statunitense, non comportasse un danno per la sua salute. Si è ad esempio detto che l'attivista non verrà messo in isolamento, né prima né dopo il processo, e che potrà anche scontare la pena in Australia, dove è andato. La notizia è appunto questa qui, cioè che la decisione dell'Alta Corte è stata formalmente approvata ieri, come dicevamo, e ora rimane soltanto un ultimo step, importantissimo però, che è il nulla osta della Home Secretary britannica, che corrisponde più o meno alla nostra Ministra dell'Interno. Ora, queste sono le notizie. Facciamo così, piccola interruzione, commento personale, e ce la portiamo a casa. Ovviamente, non credo di dovervi dire che l'estradizione di Assange preoccupi tantissimo i suoi sostenitori, in quanto, secondo le leggi statunitensi, se dovesse effettivamente essere condannato, cosa che, diciamo che è considerata probabile, ecco, l'attivista potrebbe ricevere una condanna sino a 175 anni di carcere, e, in generale, tutta la foga con cui gli Stati Uniti si sono spesi nel cercare di catturarlo, affronte di un reato che moltissimi non considerano tale, cioè divulgare segreti di Stato, ma per evidenziarne delle criticità, come Edward Snowden, scappato in Russia, o appunto Chelsea Manning, solleva moltissime critiche. Critiche generalmente relative al concetto di libertà di stampa, specie in Occidente, che si fa fregio di questo diritto. ovviamente lo fa contro altri Stati, nei quali, per finire nei guai, devi fare molto di meno, ma molto di meno, che divulgare dei dati segretati. Perché la questione è un po' lì, attenzione, dati segretati. In questo periodo, in cui è emerso questo conflitto tra Russia e Occidente, e anche tra Cina e Occidente, anche se fortunatamente in quel caso non è un conflitto armato, chi ha la tendenza a banalizzare le questioni per screditare l'Occidente, quindi il solito discorso del tutto è uguale a tutto, o anche gli altri hanno fatto le cose brutte, tira spesso fuori il discorso di Assange. Perché come la Russia arresta e avvelena dissidenti che si oppongono al governo, così anche gli Stati Uniti danno la caccia a queste figure, a questi whistleblower che contrastano la Casa Bianca. E per quanto io non sia contento di quello che sta succedendo ad Assange, e ve lo dico, fosse per me gli darei asilo politico in casa mia, lo dico proprio molto chiaramente, c'è anche da sottolineare il fatto che una cosa, essere messi in carcere perché si è dei dissidenti, pensate a Navagni, pensate a Nemtsov, e un'altra cosa è la divulgazione di materiale protetto da segreto di Stato, cosa che ovviamente è illegale ovunque, anche in Occidente, anche in Italia. Del codice penale è infatti esplicitamente previsto il reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, articolo 256, e di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, articolo 272, proprio perché è in qualche modo dato per scontato che nelle varie nazioni, anche democratiche, esistano i servizi segreti, appunto, che spiano i cittadini, le potenze estere, oppure esistano i segreti di Stato, che impongono che certe informazioni non siano divulgate per una questione di sicurezza interna. Come abbiamo visto però, questi poteri, per la loro natura, tendono qualche volta a sfuggire a un controllo di responsabilità, e quindi ad essere utilizzati magari troppo, magari male, perché secretare un certo tipo di informazioni su cosa l'esercito americano abbia ad esempio fatto all'estero è ovviamente molto poco giustificabile, per dirne una. Ma ecco, diciamo che questo è il quadro entro al quale ci si muove. Uno che prevede che certe cose non possano essere divulgate per ragioni di sicurezza, ma in qualche caso forse debbano essere comunque divulgate quando le ragioni di sicurezza non c'entrano più in niente. È sicuramente una linea molto, molto sottile, ma anche molto diversa dal distribuire nuovi ciocca a chiunque sfidi il tuo potere politico. Ecco. E il dibattito si dovrebbe muovere su questa linea qui. Per il resto, so che aver fatto quest'ultima precisazione deluderà tutti quelli che da anni mi chiedono come mai non parli di Assange, alludendo al fatto che io non lo faccia, perché sono amico degli americani o qualcosa del genere. Perché no? Personalmente trovo molto grave quello che è stato fatto da Assange, nonostante tutto, e non solo ad Assange. Tenendo però presente che quando affrontiamo queste tematiche c'è un mondo di sfumature da tenere in considerazione, che è difficile riassumere in un video così breve, a meno che non volete semplicemente abolire i servizi segreti, e vabbè, ciao. Per il resto, se quindi vogliamo buttarle in cacciare, dire Putin e Kim Jong-un non sono così cattivi, perché comunque guarda Assange, poi per me va più che bene. Però ecco. Per il resto, aspettiamo la decisione della Home Secretary britannica, che dovrebbe arrivare tra massimo qualche settimana, e poi, se volete, possiamo parlare un po' nei commenti. Però di nuovo, è una notizia che entra in un mondo di sfumature, c'è un mondo di grigio che va compreso, anche se poi si prende una posizione oppure l'altra. La mia posizione è comunque con Assange. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di iscrivervi al canale YouTube, così non vi perdete i video, a cercare il canale Telegram dedicato alle notifiche, a condividere le cose in generale, cioè non vivete con questo asco, questo asco, tutto mio, tutto mio, no, condividete tutto, condividete la spuma, la spuma, condividete, potrei ricominciare a registrarlo questo pezzo, ma invece potrei anche tenerlo così. La spugna del bagno, condividete la spugna del bagno, oppure andate su breakingitaly.club, dateci un abbonamento in più, e condividetelo con i vostri amici, e vedete un video di Q&A, vedete le cose che vi amano, oppure fate un abbonamento, sta durando molto quest'ultima parte, fate un abbonamento di quelli tra amici, e poi la mystery box, però a una persona sola, anche la lettera. È tutto molto, è difficile avvicinare quello, andate su breakingitaly.club, così capirete di cosa sto parlando. Satisfatto.